Ciao a tutti carissimi amici rossoneri, finalmente possiamo dire che il Milan ha concluso questa stagione 2020-2021 in bellezza, dominando il Cagliari. Vince 3-0, quindi conclude questo campionato con un dato indicativo. È la squadra che ha preso più punti dalla ripresa del campionato, con ben 30 punti in 12 partite, frutto di 9 vittorie, 3 pareggi, ma nessuna sconfitta. Detto questo, passiamo alle novità di settembre. A settembre purtroppo non rientrerà a San Siro con la maglia rossonera il nostro Jack Buonaventura, che infatti ci saluta e se ne va con grande tristezza. E non ci resta altro che augurare una buona fortuna, non in bocca al lupo per tutto. Io nel frattempo vi saluto, aspettando appunto che il diavolo disputi i prossimi turni preliminari per accedere all'Europa League 2020-2021. Noi intanto ci rivediamo per il secondo turno di qualificazione, previsto giovedì 17 settembre, quindi non mancate. Colgo l'occasione per ringraziarvi veramente tanto per avermi seguita e per seguirmi sempre. Non riesco a non ringraziarvi sempre ogni video che faccio, quindi grazie mille, vi auguro una buona estate e ci vediamo presto. Un saluto da Martina Zairo. Ciao!